Legge 231 del 2001 Articolo 5 Responsabilità dell'ente L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio A. Da persone che rivestono funzioni di rappresentante di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso B. Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui è la lettera A Comma 2 L'ente non risponde se le proprie persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi Cosa vuol dire questo articolo? Che si applica sia alle persone che hanno compiti di rappresentanza e quindi il sindaco oppure anche un responsabile di un ufficio ma anche comma B, lettera B che si applica anche agli impiegati normali oppure a vigilanza ovvero quelle all'interno magari di subappalti quindi